Musica Sporti a questa giornale in ottica salvezza diretta per Orvietana e San Giovannese Entrambe in ottima forma ma con la classifica che chiede punti Nei biancorossi tornano titolari Gomez, Siciliano e Santi inseriti nel 4-3 di Rizzolo privato del suo capitano Ricci Per i valdarnesi Mister Rigucci conferma all'undici che ha raccolto un punto contro il Grosseto e deve fare ancora meno di Pertica Passano due minuti e da calcio piazzato Greco scodella per Santi che forse la fa scorrere troppo e calcia addosso a Timperanza in uscita Replica poco dopo il Marzocco con Valdesi che regala a Benucci una palla a gol Ma il 10 la spreca, complice ottimo intervento di Marricchi All'undicesimo, pasticcio della difesa alvietana, rotonda un'occasione clamorosa ma conclusa in maniera pessima Un minuto più tardi, sull'altro fronte, punizione che si incarica di battere Santi Il tiro è insidioso e deviato in calcio d'angolo Succede poco altro di rilevante fino allo scadere del primo tempo quando la San Giovannese passa in vantaggio Discesa di Massai sulla destra, palla dentro per Benucci che controlla Calcia! Marricchi la prende ma sulla respinta è lesto Gianassi e fa 1-0 Finisce così senza recupero la prima frazione di gioco Inizia con due cambi in caso alvietana il secondo tempo Manoni e Marzili mandano in panchina Gomez e Stampete Al minuto 13, occasione per l'orvietana, sullo sviluppo di un cross Nella mischia, Santi tenta l'impatto con il pallone ma lo manca Poi si defila e tenta una seconda volta, ma è facile presa per Timperanza Al diciannovesimo ancora orvietana, scambio sul fondo di sinistra Tra Lorenzini e Fabri, sul cross del 7, arriva Santi ma senza i tempi giusti E Timperanza non deve nemmeno intervenire Trentunesimo, si fanno vedere in avanti gli ospiti Benucci defilato, tenta il diagonale e Marricchi è costretto ad allungarsi Nei 4 di recupero, Proia colpisce il legno di testa Subito dopo però sale la bandierina dell'assistente Non chiaro se la posizione irregolare era di Proia o di qualche altro giocatore Finisce così il Marzocco, allunga a quota 9 la striscia positiva dei risultati Volando fuori dalla zona play-out L'Orvietana invece subisce un brutto stop e rimane a quota 26 punti in classifica E al 14esimo posto Allora è arrivata una vittoria importante, pesante Con questo quizo all'ultimo secondo del primo tempo Ho preparato la partita, ci è sembrato, no? Magari rimanendo un po' sulle vostre e poi ripartendo L'Orvietana l'avete proprio imbrigliata, soprattutto nel primo tempo Hai detto bene, dai io avevo visto l'Orvietana le ultime 5 partite E quindi ti dico, era abbastanza preoccupato Perché ho visto una squadra ben messa in campo Con qualità, con fisicità, con esperienza E quindi insomma io ho una banda di giovani E quindi venire a Orvieto non è facile Ci ho giocato non so quanti anni fa È sempre qua, siamo un campo ostio, squadre forti E quindi l'abbiamo preparata, sì Diciamo per andare a sfruttare meglio le nostre caratteristiche Siamo stati bravi, cioè siamo stati I ragazzi sono stati bravi perché l'hanno sfruttato Perché abbiamo avuto anche il primo tempo un paio di occasioni belle nitide E poi proprio allo scadere sul tapin abbiamo fatto il gol E credo sia insomma poi una vittoria meritata al fine dei 90 minuti Allora se la vogliamo vedere Meno malvagia mettiamola così La classifica in realtà non è che sia cambiata tantissimo Però è chiaro che quando si perde una gara così C'è del rammarico perché soprattutto Insomma si è visto un primo tempo dove le cose non sono andate come si sperava Tant'è che poi nella ripresa si è fatta quella correzione Tornando quasi un po' alla formazione di Trestina Ma è giusta la tua analisi Siamo andati sotto prestazione oggi? Dopo i quattro risultati utili consecutivi Secondo me oggi la squadra doveva alzare un po' il livello Anche a livello di intensità, di fame E non c'è stata Non c'è stata perché siamo stati secondo me troppo lenti Era una partita sporca lo sapevamo Perché quando giochi degli scontri diretti Contro squadre che come te stanno facendo quel tipo di campionato Non possono essere partite belle Però dovevamo essere un po' più sporchi Non lo siamo stati Loro alla prima vera occasione Sono andato in vantaggio E poi durante il secondo tempo Nonostante i cambi Però la squadra ha fatto poco Ha fatto poco Grandi parate del loro portiere Ricordo qualche uscita alta Non grandi parate Ciao Danilo Cosa non ha funzionato oggi secondo te? Beh Diciamo quando si perde Vuol dire che qualcosa Sicuramente è andata Non come volevamo Sicuramente prendere i gol All'ultimo secondo del primo tempo Un po' ci ha spezzato le gambe E nel secondo tempo dovevamo reagire un po' di più E non ci siamo riusciti Sia per bravura dell'avversario Sia per prestazione magari un po' al di sotto Rispetto alle ultime prestazioni che avevamo fatto Però il campionato è lungo Non veniva oggi Qualsiasi era il risultato Siamo pronti a ripartire la domenica prossima Per fare punti contro il Ponzacco Così dall'esterno può sembrare un passo indietro No ma in realtà Insomma l'abbiamo visto Questo è un campionato in cui ogni domenica C'è da riconsiderare tutto Visto i risultati Visto i risultati che arrivano Non è detto che la classifica che vediamo oggi Sarà quella finale Magari potrà essere meglio o peggio Non lo so È abbastanza difficile anche capire Come proseguire Perché si va a Ponzacco Contro una squadra che sembrava Ormai E forse anche guardando la classifica oggi Sembra ormai spacciata Ma è andata a vincere sul campo della capolista Non sai Ognuno di noi ha il proprio obiettivo Io credo che il Ponzacco e il Cenaglia Stiano guardando il Querceta Ognuno di noi ha il proprio step da andare a prendere E con tanti punti ancora a disposizione Nessuna squadra Finché la matematica Credo proprio l'orvitara lo scorso anno Ha fatto quel tipo di campionato Quindi perché Devono mollare? Sapevamo che Oggi c'erano partite importanti C'erano degli incroci importanti Vedi il Cenaglia che va a pareggiare a Sansepolcro Quindi vincere per noi era molto importante Non ci siamo riusciti Ma questo non cambia il nostro percorso Non è che se oggi avevamo vinto Stappavamo lo champagne C'è tanto da lavorare Dobbiamo ritornare secondo me Un po' più gregari Un po' più umili Battagliare un po' di più Fare quello che abbiamo fatto In questo mese e mezzo fino ad oggi Non buttiamo tutto Ma sicuramente oggi a livello di prestazione Noi ci aspettavamo di più dalla squadra Ogni domenica stiamo sempre a ripetere Che per fare la formazione Bisogna sempre prima pensare Alle quattro quote E ormai Può per qualche squalifico Può per qualche infortunio Siamo tornati in una situazione In cui ogni domenica cambia un po' la formazione Col senno di poi Verebbe da dire Ma perché squadra che vince Si è cambiata? Sì ci può stare questo che dici te Secondo me era la domanda più per il mister Che per me Però ci sono io E ti rispondo per quello che Posso aver pensato io da fuori Nel senso che Rientrava Santi Santi era stato fuori per la squalifica Veniva dalla doppietta col Senaia Che gli aveva dato morale Si è tornato bene in settimana Quindi credo che la scelta sia andata Per far giocare la punta over davanti E l'andare da qualche altra parte Bisognava inserirlo Ma non dobbiamo andare a vedere Il discorso dei singoli Bisogna vedere proprio il discorso di mentalità Secondo me Per raggiungere obiettivi Quando sei là sotto Per fare l'ultimo stacco Devi avere continuità A livello di mentalità Di fame Di voglia Se un attimo la abbassi C'è chi ti mangia Quindi noi dobbiamo Rialzare quel livello lì Di Metterci qualcosa in più Lanciare Come si dice La lancia Oltre l'ostacolo E oggi la squadra Secondo me è mancata di quello Non ce lo possiamo permettere Tra sette giorni Avremo una partita Delicatissima Perché il Ponzacco Che va a vincere La Pian Castagna Io credo che oggi Il morale Sia altissimo E quindi Dobbiamo preparare la partita Consapevoli che sarà Forse la partita più difficile Che avremo da qua alla fine Però magari questa squadra Dovrebbe cercare Se gli avversari ti imbrigliano Di trovare qualcosa Per No magari Con le sostituzioni Del secondo tempo Ci abbiamo provato Però insomma Siamo stati una settimana Prima di Trestina A preoccuparci di Belli E a fare una formazione In un certo modo Questa volta Non ci siamo preoccupati Magari di Massaio No ma ci eravamo preoccupati Di rotondo Perché comunque Avevamo visto Che aveva fatto molto bene In questo percorso È un attaccante Che gli faccio i complimenti Mi è piaciuto molto Però È un discorso collettivo Quindi dobbiamo Noi lavorare di squadra Pensare di squadra Non è che la settimana Sarà diversa dalle altre Il livello di rendimento In settimana Io lo vedo tutti i giorni La squadra c'è È viva È stato un passo falso Ripeto Secondo me A livello di testa Dobbiamo essere più cattivi Perché per vincere Questi tipi di partite Serve tanta fame E bisogna ricaricarsi Sì Assolutamente Oggi si va a casa Con la coda tra le gambe Ma Fra 48 ore Bisogna rilassare le antenne Perché C'è più un sacco Ecco L'importante è Non buttarsi giù di morale No Perché Ci può stare Certo Lo sconto diretto perso È una brutta cosa Però insomma Alla fine Sono davanti i due punti La classifica più o meno è rimasta quella Dal Sansepolcro appareggiato Bisogna capire che magari Certe partite forse vanno affrontate A volte Malgrado i risultati Più fuori qua A casa Non sbagliamo gli approcci Che in casa Come mai? Beh Non vorrei dire sempre la solita storia Del campo Perché Poi diventa quasi un alibi Diciamo che ogni partita Ha storia a sé E noi oggi Secondo me L'avevamo approcciata pure bene Non stavamo soffrendo Anche se loro hanno avuto Due occasioni importanti Ma anche noi Le avevamo avute Pensavo dal campo Poi bisogna rivedere la partita Che eravamo in controllo Al primo tempo Fino alla fine Poi al secondo tempo Invece Non siamo riusciti A fare qualcosa in più Anche perché loro si sono chiusi Si sono abbassati Tanto Il campo non ci permette Di giocare veloce Abbiamo sempre bisogno Di fare un tocco in più Per fare la giocata pulita E questo Ci ha un pochettino Limitati Però L'atteggiamento Non lo dobbiamo mai sbagliare Faremo di tutto La domenica prossima Come dicevo Per riportare a casa Tre punti Perché ancora è lunga Abbiamo visto Il Ponzacco Oggi ha vinto A sorpresa Con la Pianese Quindi In questo campionato Quest'anno Nessuna partita È scritta Prima Prima della fine Tutto sommato Avete anche rischiato poco Nella ripresa No? Sì Nella ripresa Loro hanno cercato Di mettere un po' Di attaccanti in più Hanno preso in avanti Hanno cominciato A calciare un po' La palla Per cercare di metterci In difficoltà Ragazzi Stavano bravi a difendersi Quindi dai Ci prendiamo Questa vittoria Per noi È fondamentale Ci aiuta a fare Un altro piccolo scalino Per sperare Di riuscire A arrivare al 5 maggio E essere salvi Se no Continueremo a lottare Come abbiamo fatto Domenico dopo domenica Campionato che continua A avere risultati Clamorosi Non bisogna Madare nulla Per scontato L'abbiamo visto Anche oggi Con l'ultima Che è andata a battere La capolista Fuori casa In zona playoff Però Al di là Del punto in più O due punti in meno Le squadre Sembrano un po' Essere quelle Non so se Sopra Sarà coinvolto Qualcun altro Come la vita Questa sfida No Una sfida La campionato Difficile Molto Perché non ti aspetti Le squadre Così possano andare fuori casa Addirittura A vincere a Piancastagnaio Insomma Io Ci avrei scommesso Nemmeno forse Un centesimo Però Qui dove vai vai Devi sudare Correre Tirarti sulle mani E ti dirò Io Ho più paura Preoccupazione A giocare Le squadre Come l'Orbitana Che hanno qualità E fame Perché poi Dopo alla fine La differenza Fa la fame E che giocare Magari una squadra Che ha 20 punti in più E magari La può trovare Nella giornata Diciamo Un pochino Più rilassata Però Campionato duro Quindi Pensi di andare a giocare A cenaio E vincere facile Magari ci batti i denti Quindi Dai Dobbiamo stare sui pezzo E credo Insomma Valga anche per L'Orbitana Ce l'adotteremo Fino alla fine Dai Senza Senza risparmiarci i colpi Qual è stato il segreto Dal suo arrivo Per valorizzare Questo gruppo di giovani Che ricordiamo E anche prima Nella speciale classifica Dei giovani Quindi C'è anche questo Aspetto Che stimola Ancora di più Il gruppo Stimolante Allenare giovani Stimolante Sono stati bravi La società Perché poi Ci hanno messo A disposizione Giovani I bravi Io sono convinto E poi 3, 4, 5 cose Non so con quante Abbiamo finito oggi Ma domenica scorsa Con 7 La domenica prima Ma uguale con 7 Quindi alla fine Quando sono bravi Poi li fai giocare Ma non c'è segreto Sono quelle alchimie Che si creano Nelle squadre A volte L'anno scorso Non ho fatto bene Per esempio Eppure Dipende dagli anni E quindi Diciamo Ho trovato uno staff Importante Di gente All'interno Che non conoscevo Che si è creato Come ti dicevo Questa alchimia Con noi E con i ragazzi E adesso Anche nelle sconfitte Nelle difficoltà Siamo molto uniti E questo io credo In questo campionato Soprattutto in Serie D Se non hai giocatori Fuori categoria Ti serve Ti aiuta Quanto meno A sperare A lottare Per riuscire a salvarti Questo sì